Il riconoscimento più importante, la menzione d'onore alla carriera come miglior stuntman del secolo. The winner is Ubaldo Lanzo. Consegna il premio, Ilari Blasi. E io sono onoratissima di poter consegnare il primo rosolone d'oro, magari il primo di una lunga serie, ad Ubaldo Lanzo. Sei tu il vincitore, vieni pure qui, raggiungimi. Vieni, vieni pure a ritirare il tuo riconoscimento. C'è pure le spiglie, le chiavi. Cosa aprono queste chiavi? Eccolo, rosolone d'oro. Massimiliano, Ubaldo qui con me. Vabbè. Hai detto che avresti vinto l'isola, qualcosa hai visto però. Ma ha vinto lui. Ma chi? Lui chi? Il mio amore vero. Massimiliano. Guarda dove ce l'ho, e stanotte con chi dormo. Hai capito? Amore. Va bene, Sandra. Ah, mo, mo, Sandra, mo chi ama amore di sponde San. Ciao, Vianelli, ti aspetto. Ti aspetto. Ti aspetto. No, io aspetto te qua. Grazie, ciao, Corre. Ciao, Corre. Ciao, Corre. Ciao, Corre. Grazie a tutti